Andrea, dove mi hai portato stasera? Ma dove siamo? Siamo in un posto bellissimo Andy, ma te mi fai sempre delle sorprese Dimmi, dimmi, dove siamo qua? Siamo al Miglio Verde Dove, dove, dove? Siamo al Miglio Verde Più forte Siamo al Miglio Verde Oh, ora ti sento Siamo al Miglio Verde E ti devo dire una cosa molto importante Dimmi Ma dove saremo noi il 18 di settembre? Ah, lo dico io? Sì, lo dico anche io Poi mi ha detto anche te Il 18 di settembre siamo a Sinalunga Sì Al Public Pub Sì Per una serata Di notti italiane E notti italiane che segue anche la tournée di Arena Italia Insieme, in collaborazione con Teleidea Che le ringraziamo qua in questo nostro video Ci saranno anche degli ospiti L'ospiti molto importante Oltre ovviamente Andy Bellotti Imitatore Trasformista con le sue trasformazioni, imitazioni Che ne ha più ne metta Poi chi c'è? E poi ci abbiamo la nostra stella Tony Alini Che è arrivata fresca fresca oggi Dalla finale di Miss Cinema Da Taormina Che sarà con noi a presenziare Questa meravigliosa serata Quindi Gli ospiti? Gli ospiti Venite Venite e prenotatevi al Sabato 18 Public Pub Di Sinalunga Provincia di Siena Tantissime novità Mi raccomando Notti italiane Dalle ore 22 Yes Dalle ore 22 Buona serata a tutti Vi aspettiamo Ciao 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 Grazie.